Buongiorno Deido, accanto ai grandi motori di ricerca mainstream del web come Chrome o Bing o altri che si stanno affacciando adesso sul mercato come DuckDuckGo, come player di una certa rilevanza esistono dei piccoli motori di ricerca che stanno cercando di emergere in qualche modo e offrono, propongono un modello di business differente alternativo tra questi c'è KAGI, scritto K-A-G-I ed è un motore di ricerca che non è accessibile da tutti e non si basa sulle pubblicità per gestire le sue revenue ma si basa sul pagamento, cioè è un motore di ricerca a pagamento è prevista una subscription e quindi gli utenti devono pagare per poterlo utilizzare che sembra assurdo pagare un motore di ricerca visto che possiamo utilizzare altri motori di ricerca che sono gratuiti naturalmente la parola gratuito ha dei significati un po' diversi secondo di come la vedete, altri motori di ricerca si basano su pubblicità o comunque prendono i dati degli utenti, li rivendono insomma il vero costo di questo motore è la privacy stessa dell'utente ma insomma invece KAGI offre questo moderno alternativo in cui si paga il motore e poi si usa totalmente liberamente senza pubblicità, senza ADV, senza cookie, privacy eccetera quindi chi è interessato alla privacy online e al non essere tracciato troverebbe, troverà magari in KAGI o KAGI, in quanti modi l'ho detto oggi non lo so, il proprio campione perché è un prodotto appunto che non traccia non ha pubblicità eccetera vi però lancio anche questa cosa che KAGI da poco ha lanciato questa iniziativa la small web si chiama small web e lo small web così definito è tutta quella parte di web che non è solitamente intercettata dai circuiti appunto mainstream o meglio non è intercettata dai circuiti della pubblicità cioè sono tutti quei siti, blog soprattutto o piccoli social network decentralizzati che non hanno ADV, non hanno tracciamenti, non hanno ADV e in questo modo difficilmente emergono nei risultati dei motori di ricerca mainstream che invece privilegiano naturalmente altri tipi di contenuti. Ecco con small web KAGI lancia questa iniziativa in cui va a premiare e cerca di trovare e fare appunto risaltare attraverso un lavoro che è soprattutto manuale piccoli siti che però contengono contenuti di grande valore, di una certa rilevanza, magari per esempio nel nostro settore dell'IT scritti, i blog scritti dai programmatori stessi e quindi se voi andate su KAGI.com e cercate small web ecco trovate che questa iniziativa offre un RSS che vi dà delle news curate manualmente prese dai siti ecco del cosiddetto small web e in più se siete utenti paganti quindi iscritti a KAGI tra i risultati dei motori di del motore di ricerca troverete spesso in prima pagina comunque valorizzati contenuti provenienti da questo tipo di sito. È un modo di usare il web un po' alternativo, un po' decentralizzato, nel senso proprio di decentrato rispetto al web tradizionale mainstream dei motori di ricerca e dell'advertising classico ed è un web che penso valga la pena scoprire e quantomeno promuovere. Direi che ora invece andiamo nel mainstream proprio pieno 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 perché ieri è stato il giorno dell'evento Apple e dobbiamo parlare insomma delle principali novità annunciate da Apple quindi via. Allora non la farò lunghissima e anche perché voglio parlare di altro anche comunque ieri c'è stato l'evento Apple in cui è stato presentato iPhone 15 probabilmente l'avrete già sentito l'avete visto da qualche parte cerco di fare un riassuntone e per fortuna The Verge ci offre questo articolo in cui ricapitola, riassume i sette annunci più grandi. Gli andiamo a vedere quindi l'iPhone 15, la line up dell'iPhone 15 cosa offre? Offre USB-C che già si sapeva perché è requisito legale ormai quindi Apple è costretta a cambiare Lightning con USB-C quindi adesso sulla tutta la linea iPhone 15 troviamo USB-C e inoltre iPhone 15 offre Dynamic Island che sapete l'hanno presentata l'anno scorso è quella isola che si mette al posto del notch poi si comporta dinamicamente a seconda del contesto dell'applicazione eccetera bene quindi leggo l'articolo la line up dell'iPhone 15 non solo offre USB-C al posto di Lightning ma anche questa Dynamic Island che inizialmente era soltanto a pannaggio degli iPhone 14 Pro e Pro Max inoltre gli iPhone 15 hanno il nuovo chip A16 che era stato incluso in nel iPhone 14 Pro c'è un po di confusione nei numeri e quindi l'iPhone 15 ha il chip A16 che era stato incluso nell'iPhone 14 va bene comunque l'iPhone 15 è prezzato a 799 dollari in America e quindi non so quale sarà il prezzo italiano comunque l'iPhone 15 plus invece 899 dollari poi iPhone 15 Pro e Pro Max hanno deciso di rimpiazzare lo switch per il muto sapete lateralmente gli iPhone hanno questo switch per cambiare il tono dai rumori al muto per le chiamate ecco al posto di questo switch adesso c'è un bottone che è customizzabile quindi un new customizable action button e questo può essere customizzato con azioni che l'utente prevede di voler utilizzare più spesso tipo aprire la fotocamera o qualunque altra cosa e inoltre il Pro e Pro Max sono equipaggiati con il processore A17 Pro e inoltre la ricarica via USB C è più veloce rispetto agli iPhone 15 base quindi se spendete quei 100 200 in realtà euro in più avete un processore un pochino più veloce uno schermo più grande naturalmente è una ricarica cavo USB C più veloce poi Apple Watch Series 9 ora sono più performanti e quindi i Watch Series 9 hanno un nuovo processore aggiornato S9 che addirittura pensate dà l'opportunità di avere una all day battery life quindi una batteria che durerà tutto il giorno è molto molto carina come come feature inoltre questa nuova feature del riconoscimento del double tap cioè voi schioccando insieme toccandovi pollice e indice ecco che il l'orologio riconosce questa gesture e permette di fare cose tipo che ne so rispondere a una telefonata oppure spegnere un allarme una cosa carina poi non ci saranno più i braccialetti cinturini di pelle tra l'altro neanche gli iPhone case neanche i case di pelle questo è per l'annunciato ecco carbon footprint ridotto non si faranno più le cose in pelle il Watch Series 9 va a 399 dollari poi Apple Watch Ultra 2 anche qua ci sono nuovi processori nuove specs quindi il processore S9 ora è ancora più potente e anche questo supporta il double tap l'ultra 2 costerà 799 dollari negli Stati Uniti poi USB-C arriva anche su Airpods Pro quindi il case delle Airpods Pro ora sarà disponibile con USB-C andiamo ora alle date di rilascio di iOS 17, WatchOS 10 e macOS Sonoma che sono state annunciate rispettivamente il 18 settembre per quanto riguarda gli OS mobile e invece per quanto riguarda il desktop sarà il 26 settembre quindi ritardato di qualche giorno una cosa invece disponibile negli Stati Uniti è la roadside assistance quindi l'emergency SOS che è fatto via satellite ora includerà anche una assistenza stradale quindi bucate le gomme oppure che ne so vi si rompe la macchina si distrugge il motore potete utilizzare il questo servizio satellitare fornito da AAA in partnership e qua appunto vi verranno a prendere e riparare la macchina salvarvi da una situazione imbarazzante ma queste erano un po le novità più croccanti del del evento iPhone così come elencate da The Verge direi che non stiamo tanto ad approfondire la cosa però interessante che volevo andarvi a raccontare la trovo su 404 media 404 media che peraltro è una nuova un nuovo magazine online un nuovo blocco una nuova rivista non so come chiamarla online che è fatta da ex redattori di motherboard sapete che motherboard la rivista di vice ha chiuso qualche tempo fa bene un gruppo di redattori di motherboard ora ha fondato questa nuova questo nuovo outlet di news che si chiama foro for media insomma su foro for media troviamo una questa questa questo articolo che parla della riparability perché per la prima volta come dice l'articolo per la prima volta in 15 anni di presentazioni dell'iPhone Apple ha nominato la parola repair riparabilità riparazione in particolare in tutto il keynote di presentazione Isabel Young che è l'ingegnere per i materiali ecco di Apple ha detto che ci sono nuove architetture interne che rendono l'iPhone più riparabile questa è la piccola frase pronunciata nel keynote in un keynote durato 85 minuti ebbene il giornalista di foro for ha spulciato le trascrizioni di tutti i keynote di tutti gli eventi Apple degli ultimi 15 anni e la parola repair non era mai stata pronunciata quindi è la prima volta che viene fuori questa parola ed è una cosa da segnalare peraltro un po' ironicamente magari ma neanche tanto l'articolo poi prosegue rivolgendosi alla direttrice della sostenibilità di iFixit iFixit azienda che conoscete bene tutti che si occupa proprio della riparazione delle parti di ricambio dei device quindi Elizabeth Chamberlain che ha appunto dichiarato che l'iPhone che più rispetta l'ambiente insomma quello che ha la carbon footprint inferiore è quello che non comprate cioè non comprate un nuovo telefono ogni anno sostituendo quello precedente perfettamente funzionante magari con poche modifiche ecco questo è il modo migliore per sostenere l'ambiente direi che è una cosina banale però vale la pena menzionarla perché mi piace tirare fuori la questione della riparabilità perché ne avevamo parlato qualche qualche volta e torno ancora su foro for media la california ha fatto passare questa legge che appunto il right to repair quindi il diritto degli utenti che comprano device a ripararseli e non sottostare alle leggi del venditore per le parti di ricambio ma può rivolgersi al mercato delle terze parti e ripararsi manualmente a casa sua con un kit di riparazione il proprio il proprio telefono cosa che c'è anche in europa bene in negli stati uniti la california adesso ha fatto passare california naturalmente è uno degli stati più importanti di questo punto di vista ha fatto passare questa legge ed è il terzo stato negli stati uniti che fa passare questa legge dopo new york e minnesota la cosa curiosa è che apple è proprio tra i sostenitori di questa di questa legge di questa proposta e molti commentatori hanno fatto notare che era ovvio che questa sarebbe passata infatti è passata con proprio con un'unanimità 50 voti a zero era talmente ovvio che apple invece di continuare a battersi contro questa legge come ha fatto negli ultimi anni ha deciso che probabilmente era più saggio andare a sposare questa iniziativa supportarla e quindi passa diciamo dalla parte del dei vincitori questo ecco per dare più contesto a quello che succede intorno al right to repair in chiusura vado a recuperare una news di qualche giorno fa in realtà però si collega sempre all'argomento apple sappiamo da the verge che apple ha siglato un accordo con arm per proseguire la collaborazione tra apple e arma fino a dopo il 2040 sapete che arm è la creatrice il creatore dei tutti le architetture dei processori di apple e con cui apple ha un accordo da diversi anni ebbene questo accordo è stato prolungato fino al 2040 questo si sa da ulteriori documenti che sono arrivati dalla quel plico di documenti dell'offerta pubblica che arma presentato alla secche per essere quotata in borsa quindi è venuto fuori anche questo accordo con arm quindi se si pensava che apple avesse iniziato a pensare a prodursi in casa disegnarsi e prodursi in casa i propri processori in realtà no probabilmente almeno per alcune linee arm continuerà a essere il designer dei chip apple almeno per i prossimi 20 anni ieri è successa una cosa che ha fatto arrabbiare molti sviluppatori soprattutto sviluppatori di videogiochi indipendenti cosiddetti indie developers che utilizzano il motore di gioco unity che è appunto questo software che permette a chiunque di creare e sviluppare un videogioco 2d o 3d e poi pubblicarlo sui principali store online anche di qualunque console non solo su pc ma anche su mobile cioè un motore che permette di esportare un gioco per praticamente qualunque device ed è praticamente il principale software usato per creare videogiochi oggi soprattutto dagli sviluppatori indipendenti che hanno sfruttato un modello di prezzo piuttosto conveniente anche per i piccolissimi sviluppatori ebbene questo modello di prezzo da ieri in realtà dal primo gennaio 2024 ma è stato annunciato ieri cambierà in modo abbastanza rilevante perché unit ha deciso di mettere alcune soglie alla volume di vendita degli videogiochi superate le quali gli sviluppatori dovranno pagare i uniti 20 centesimi per ogni installazione di gioco quindi ogni volta che un utente compra il gioco e lo installa su un device in quel momento ai uniti devono essere corrisposti 20 centesimi non è una percentuale è proprio un prezzo fisso che quindi inciderà anche sul prezzo finale al consumatore immagino del del gioco e questa cosa naturalmente ha fatto arrabbiare tutti soprattutto perché molti stanno già sviluppando videogiochi con gli uniti o ce li hanno praticamente pronti e lo hanno fatto sposando un altro modello di prezzo quindi facendo dei conti facendo dei calcoli con un modello di prezzo che non era questo e adesso bisognerà fare i conti con questo nuovo pricing model vado a prendere l'articolo di pc gamer che naturalmente è una rivista che segue molto da vicino questo mercato che raccoglie un po le reazioni degli sviluppatori indipendenti il titolo di questo articolo è abbastanza esplicativo an astonishing scambag move quindi una mossa scambag non ve lo traduco diciamo che in maniera delicata potrei dirvi un po stronza ecco così una mossa un po stronza quindi le reazioni degli sviluppatori indie quindi vado a vedere un po l'articolo gli sviluppatori sono molto incacchiati con gli uniti per il cambio del pricing model che vedrà appunto una una fee per installazione e quindi molti sviluppatori dicono che questo modello potrebbe arrivare a costargli più di quello che il gioco in realtà gli renderà e poi li renderà anche vulnerabili all'abuso e impatterà la loro abilità la loro possibilità di partecipare ai giveaway o ai bundle o a subscription come il game pass vi spiego un attimo come funziona il mercato dei videogiochi oggi per chi non lo conoscesse ci sono varie forme in cui una persona può acquistare un gioco c'è l'acquisto classico quindi vado sullo store online vado su amazon o vado su steam per esempio che è un popolare store online compro il gioco lo scarico pago un prezzo fisso lo store si trattiene una percentuale il resto va allo sviluppatore già in questo caso è difficile parlare di costi fissi perché questi store spesso applicano degli sconti quindi si è abituati a pensare alle percentuali più che al costo fisso ma comunque questa è una modalità poi ci sono i giveaway giveaway significa che uno store regala un gioco per un dato periodo di tempo questo gioco viene regalato a zero a tutti i suoi utenti fa un accordo naturalmente con il developer con il publisher di questo gioco gli corrisponde un valore e poi tutti gli utenti dello store possono prendere a gratis ecco e scaricarsi questo gioco poi ci sono i bundle ci sono dei siti come humble bundle che ti consentono di acquistare un pacchetto di videogiochi e solitamente questi sono fatti in ottica caritatevole cioè viene segnalata viene identificata un'organizzazione non profit a cui una certa percentuale di proventi di questo bundle viene destinata quindi l'utente compra questo bundle si scarica una certa quantità di giochi e sa che una percentuale del prezzo pagato per questo mandor andrà a un ente caritatevole ecco e poi il resto dei proventi sono suddivisi tra gli sviluppatori che hanno preso parte al bundle ultima cosa ci sono dei subscription service come appunto game pass che sono dei servizi che possiamo chiamare alla netflix e dove l'utente paga un prezzo fisso ogni mese e può giocare con tutti i giochi presenti sul catalogo in quel dato mese ecco quindi avete capito che non esiste soltanto l'acquisto singolo one time esistono varie modalità e gli sviluppatori sono molto preoccupati che queste modalità possono essere impattate in maniera negativa da questa nuova politica no perché se tu devi pagare un prezzo fisso per ogni installazione ecco che calcolare come risultano le tue revenue da servizi che in realtà non sono a costo fisso ma hanno appunto funzionano percentuali addirittura bundle giveaway eccetera è molto più complesso rischia di impattare negativamente quindi qui vediamo la tabella appunto che ha pubblicato uniti sul suo blog che riassume un po le i limiti oltre i quali sviluppatori devono iniziare a pagare sono 200 mila dollari di revenue cioè quando un gioco supera le 200 mila dollari di vendita queste nuove policy si iniziano a applicare quindi si va a pagare 0.20 dollari quindi 20 centesimi per ogni installazione l'articolo prosegue poi con il confronto con quello che succede nella concorrenza quindi nel motore di gioco concorrente unity che è l'unreal engine di epic dove invece per esempio epic si prende il 5% delle revenue totali quando il gioco supera il milione di dollari di revenue e tom francis che è il designer e lo sviluppatore di hit signature ha appunto dichiarato a pc gamer che questa è una mossa veramente stronza ecco e secondo francis il problema il punto non è tanto sulla cifra sul modello applicato a queste vendite non è tanto sui 20 centesimi ma è il modo in cui unity ha imposto questo nuovo modello agli sviluppatori cioè che è unilaterale a un certo punto queste modalità sono state cambiate per tutti anche quelli che hanno già dei videogiochi in corso magari in procinto di essere pubblicati quindi poi prosegue nella dichiarazione francis un partner se tu sei partner con qualcuno e questo partner può e cambierà il modello con cui tu calcoli le tue revenue quello che gli devi ecco in questo accordo dopo che tu questo accordo l'hai già siglato quindi dopo che hai iniziato già a lavorare con lui ecco questo tipo di partner deve essere evitato come la peste e un sentimento simile è stato espresso anche da thomas sala che è lo sviluppatore di the falconeer un altro video gioco indie che era già in procinto di rilasciare un gioco con lo unity engine appunto un gioco in cui ha messo anni e anni di lavoro però adesso non può farci niente non ha altre opzioni deve per forza andare avanti e pubblicare il gioco con unity non può cambiare motore di gioco in corsa arrivato a questo punto è come se fosse stato ricattato lui dice perché non ha possibilità di cambiare ecco l'accordo viene cambiato così e basta e quindi poi anche altri sviluppatori dicono non puoi fidarti di un partner che cambia le regole ecco dopo che l'accordo è stato preso inoltre appunto si fa riferimento al fatto che gli sconti la scontistica per i sviluppatori indie adesso non è assolutamente conveniente perché siccome il prezzo dell'affidata a unity è fisso ecco che scontare il gioco risulta in un impatto maggiore di questa di questa affidata a unity e inoltre poi si va a analizzare quello che succede con l'abuso potenziale e il consulente rami ismail ha detto appunto a pc gamer che con questa modalità un utente che voglia abusare o per qualche motivo trattare malissimo con lo sviluppatore di un videogioco che ha comprato lo può fare installando molte volte questo gioco su molti device diversi ed è facile tra virgolette farlo per esempio usando delle virtual machine e dei bot insomma lanciare molte installazioni di un gioco è possibile a questo punto unity dovrebbe riscuotere 20 centesimi per ognuna di queste installazioni quindi uno sviluppatore potrebbe essere in seria difficoltà se questo scenario ecco dovesse presentarsi soprattutto perché le installazioni di per sé non generano denaro per gli sviluppatori è l'acquisto che genera denaro ma l'installazione no e questa anche è un'obiezione abbastanza valida no insomma in risposta a tutto questo casino a questo backfire unity ha risposto che di non preoccuparsi ovviamente perché in realtà solo una piccola parte una piccola percentuale degli sviluppatori che adesso hanno giochi con unity dovrà pagare queste fee la grande maggioranza continuerà a non pagare nulla e che tutto questo impatterà soltanto quelli che hanno giochi veramente di successo famosi venduti in tutto il mondo insomma di non preoccuparsi piccoli sviluppatori indipendenti inoltre per quanto riguarda le frodi cioè quello che dicevamo prima no le multiple installazioni sulle virtual machine eccetera di non preoccuparsi perché unit è un sistema che rileva se ci sono delle frodi riguardo il loro sistema di advertising hanno un circuito di advertising interno ai giochi che va a rilevare se c'è un abuso in questo senso da parte di sviluppatori che magari lo installano su decine di migliaia di device ecco usando questo stesso sistema si dovrebbe prevenire anche l'abuso da parte degli utenti che installano il gioco molte volte ma insomma una marea di sviluppatori indipendenti adesso ha espresso questa frustrazione ha detto che non userà mai più unity non lavorerà più community si rivolgerà a un altro mercato e quindi diciamo che la mossa non è stata presa assolutamente bene e se volete approfondire su una testata che non è una testata di settore cioè non parla solo dei videogiochi su the verge ovviamente c'è un articolo che copre questo 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 topic che è appunto unity has changed its pricing model quindi lo trovate trovate anche lì ci sono le stesse cose però spiegate a un pubblico che diciamo non mastica il vocabolario dei mercato videoludico ma volevo buttare sul tavolo anche una cosetta frizzante perché vado su yahoo finance c'è un articolo del 9 settembre di quindi qualche giorno fa qualche giorno prima dell'annuncio di questo cambio di pricing model di unity il ceo di unity e presidente john ricitiello ha venduto ha venduto 2000 azioni della sua compagnia che non vuol dire niente però diciamo che è quantomeno sospetto che il ceo di una compagnia prima di annunciare una cosa che sa essere un po controversa va a vendere un certo quantitativo di azioni che lui possiede di quella stessa compagnia in chiusura invece incidentalmente proprio nello stesso giorno un motore di gioco rivale di unity non menzionato né da pc gamer né da the verge che invece un motore di gioco open source completamente open source che godo ha annunciato la creazione di un fondo che chiama godo development fund ed è un fondo che si occuperà di mantenere finanziariamente lo sviluppo del motore godo è un motore completamente open source ed è anche completamente gratuito chiunque può utilizzare godo per creare videogiochi 2d e 3d ne avevamo parlato potete cercare sui miei canali sui miei podcast la puntata dedicata all'uscita di godo 4.0 c'è un'analisi è un pochino più approfondita di che cos'è godo e quali sono le opportunità che offre ecco anche il pricing model non esiste c'è di fatto è un software open source che si può usare liberamente per creare qualunque software che poi può essere rivenduto senza dover dare niente a godo ebbene con questo development fund godo inizia a strutturarsi finanziariamente in modo sostenibile cioè incoraggia ecco chi utilizza godo a prendere parte al sostenimento economico del progetto stesso donando appunto intervenendo finanziariamente in questo fondo che poi va a sostenere l'intero ecosistema quindi ecco giusto per farvi notare che un modello alternativo probabilmente esiste questo non solo nello sviluppo di videogiochi ma in generale nel mondo nel mercato esiste un modello alternativo godo non è un piccolo progetto è un enorme progetto di grandissimo successo e se godo riuscirà a mantenersi bene e a prosperare con questo modello insomma saranno buone notizie per tutti quelli che sperano in un'alternativa ai modelli attuali chiudo qui è stata molto lunga e faticosa questa puntata non lo so perché però insomma alla fine ce l'ho fatta spero che sia venuta anche qualcosa di decente io vi ringrazio per avermi seguito vi ringrazio quelli che hanno seguito la chiacchierata con giuseppe funicello ieri sera ora la troverete a imperitura memoria sul suo canale youtube quindi cercate giuseppe funicello abbiamo un po chiacchierato di sviluppo junior sviluppatori junior periodo di gavetta una parola che mi fa molto sorridere e poi sviluppo freelance insomma un sacco di cose interessanti con anche una chat piuttosto attiva quindi poi se vi interessa insomma andate lì e basta direi che è tutto qua noi ci sentiamo a una prossima puntata fate i bravi e mangiate le vostre verdure ciao